Ed eccoci qua dopo una zerata, dopo lo spettacolo, lei cosa ne dice? Mi è piaciuto, mi è piaciuto, però stiamo aspettando gli artisti. Un po' di voce, non si sente? Ah, si sente. Allora stiamo aspettando gli artisti per intervistarli, insomma gli autori. E non siamo gli unici, infatti qua abbiamo i signori qua della radio, buonasera, buonasera. E quindi insomma stiamo un po' aspettando che arrivi Carimmo e Vincenzino per fare questa piccola intervista. Allora intanto buonasera al signor Vincenzo e al signor Carimma e anche a Martina che se ne è appena andata. Allora innanzitutto vorrei farvi complimenti per lo spettacolo, siete stati davvero bravissimi e vorremmo farvi delle semplici domande. Ok, allora questa domanda ovviamente è per entrambi. Di cosa si tratta il vostro stand-up? Nel senso che tematiche trattate? Prego. Ah, comincio io? Sì, prego, prego. Ciao. Tematiche classiche da stand-up, a meno quello lì che faccio io. Però mi sento molto in soggezione con una cosa, lo so che sembra strano. Mi inquadro fino a qua e mi sento di sesso politica, sesso politica, sesso politica, religione morte classico della satira, però veramente mi sto inquietando. Però va bene, va bene comunque. Sì, tra c'è una politica che preferisco non trattarla io, del resto è sesso, religione morte, cibo. Sono sempre quelli. La vita da single. Da single? Perfetto. Com'è nata questa collaborazione tra di voi? Questo dice lui. Perché mi ha insultato dei video, mi ha fatto un video dove mi ha insultato i video e io ho detto, eh, c'hai un po' ragione. Lui ho detto, eh, lo so. E ho detto, però mi piacerebbe fare la... No, veramente, mi ha fatto un video dove parlava dei miei video. Sì. Eh, ma niente. E poi da lì ho detto, no, sai che mi piacerebbe fare queste cose qua? Anche a me? Perfetto. Perfetto. Allora, per quanto riguarda i vostri canali, o dove trame vi occupate di un determinato genere di video, per caso state preparando qualcosa di particolare? Chi sia da soli o qualche collaborazione tra di voi con atti colleghi di YouTube? Mi ha passato la patata bollente. Non era una... Però... E... No. Cioè, niente di... Niente di emozioni. Niente di emozioni. Cioè... Sì, però c'è... Sì, 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 sì. State attaccati al mio canale che... Primo, fidatevi, da ora a 7-8 anni vedrete che qualcosa ci sarà. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Niente. Mi raccomando. Ecco. Non è vero. Niente. Eh, io vado avanti con lo show finché dura. Poi... Comunque durerà tipo qualche mese, 6 mesi. Vediamo come va e poi basta. Poi ritorno a fare le altre cose. Come al solito. Domanda per Vincenzo. Sappiamo che lei è musicista. Lei? Ma no, non è musicista. Sarà per caso preparando un qualcosa a livello musicale? Certamente. Anche perché ho anche un canale musicale. Quindi... Ci saranno tantissimi video su quel canale. Mi pesa il culo. No, cioè, mi piacerebbe... Cioè, sì, vabbè, sì. Penso che... Ora abbiamo fatto delle serate questi mesi. Ok? Cioè, ora è finito un... Non un tour, ma un piccolo pedino. Qualcosa forse che sono più tranquillo a casa, con le palle alla... Con... Farò uscire. Domanda per Karim. Le volevo informare che diversi mesi fa io realizzai un video imitando dei... Sì. Ah, l'ho visto, sì. E non l'ho mai saputo la sua risposta. Me la può dare adesso? Era un video molto strano perché non è che mi imitavi, letteralmente. Tu mi hai imitato indeterminato. Tra l'altro hai rifatto le inquadrature uidentiche. Io non ho idea di come tu abbia fatto, ma comunque... Hai preso dei piccoli pezzi e li hai montati insieme in un video che era un delirio strano perché... Le mie stesse inquadrature ed era una cosa stranissima avere le stesse... Però montate tutte insieme in un... È stato un... Come un sogno onirico. Cioè, proprio veramente è stata una cosa stranissima, però... Cioè, ti sei sbattuto veramente tanto per farlo. Si vede? Veramente tanto. Una micchia. Eh, fare la barba... No, ma poi... Le inquadrature erano identiche da mostarda alle recensioni a... Beh, ovvio che non le potevano essere a casa mia, però... E erano veramente simili... Veramente, complimenti. Grazie. Perfetto. Io non ho altre domande. No, in realtà ci sarebbe una domanda... Ah... Ah, sì... Martina? Martina? Ma io posso raccontare... Sono una domanda semplice semplice... Non di caso... Come fai a sopportare questi due? Ecco... Ho una dote nata di farlo... Non lo so... Non lo so... Lo faccio perché devo farlo. Perché deve farlo... Pensa che... Questo è amore. Perché devo farlo è amore. Amore è cattivezza, sì. Certo. Va bene, va bene. Allora, io... Vabbè, va bene. Allora, io... Vabbè. Vabbè. Ma aspetta, io mi sento... Ok. Io comunque vi ringrazio per averci concesso del tempo, per questa intervista, e ancora complimenti per lo spettacolo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.